Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi un nuovo video a tema Harry Potter. Ma prima di cominciare, come al solito, vi ricordo che in infobox trovate il link alla mia vitrina Amazon per sostenere il canale. Acquistando qualsiasi cosa tramite uno dei miei link, aiuterete il canale a sostenersi. Quindi, grazie in anticipo, a voi non costa nulla, per me è un grande aiuto. Detto questo, vi ricordo anche che, utilizzando il mio codice sconto 7Potter su Pampling, per tutto il mese di dicembre, quindi ormai resteranno pochi giorni, avrete, oltre ai calzini in omaggio con ogni ordine, il 20% di cashback sotto forma di punti Pampling. Cosa vuol dire? Che, spendendo, ad esempio, 100€, avrete 20€ sotto forma di punti da utilizzare sull'ordine successivo. Quindi, sul prossimo ordine, 20€ di sconto. Ed è accumulabile sempre col mio codice 7Potter, quindi avrete anche i calzini in omaggio anche col prossimo ordine. Lo sapete, gli sconti Pampling si possono un po' sommare, sia i miei, i loro. Detto ciò, chiudo il becco e cominciamo. Prima di arrivare ai pacchi potteriani, perché oggi, indovinate un po', si parla di Vinted. Non ve ne parlavo, tipo, da due giorni. Ma, ragazzi, la mia collezione quest'anno ha avuto un incremento pazzesco grazie a Vinted, quindi tant'è. Prima di cominciare, vi voglio far vedere questo, che è un pacchetto che mi arriva dall'ufficio stampa di Universal Picture Home Entertainment. E si tratta di un cofanetto, che vi volevo far vedere. Ed è il cofanetto con tutte le avventure di Fast & Furious. Quindi, la collezione completa con i nove film di Fast & Furious, con tantissime ore di contenuti speciali. Ragazzi, ci sono due versioni di Fast & Furious 9 all'interno. Quindi, qualora foste interessati, vi lascio il link in info box per acquistare questo cofanetto su Amazon. Magari siete ancora in tempo con i regali di Natale, non so quando uscirà questo video. Quindi, grazie mille a Universal Picture Home Entertainment. E ora passiamo a Vinted. Ho recuperato una cosa che cercavo davvero da almeno un paio d'anni. Era un oggetto che era stato dato in omaggio assieme ad una delle Wizarding World Box di Loot Crate, quindi quelle di J.K. Rowling ufficiali. Era un prodotto che ricercavo davvero da tanto tempo e non trovavo neanche su Ebay. E quando lo trovavo costava una follia, quelle due volte che l'ho intravisto. L'ho beccato su Vinted, indovinate a quanto, a soli 3 euro, più spedizioni. Ma, ragazzi, finalmente li ho recuperati. Sono i piattini, coi gattini, della professoressa Umbridge. È un set ufficiale con quattro piattini di quattro misure diverse. E, ragazzi, davvero, lo cercavo da tantissimo tempo, lo volevo fortemente. E, finalmente, eccolo qui. Sono quattro piattini. Partiamo dal più piccolo, che è questo, con questo gattino tutto arruffato, tutto sonnacchione. E poi abbiamo anche un altro piattino leggermente più grande, questo qui tutto in rosa, con questo, credo sia un soriano, non lo so. Non mi intendo molto di gatti, non mi piacciono i gatti, mi piacciono i cani. E poi ne abbiamo ancora un altro con questi due gattini bianchi e neri, che non ho idea di quale razza sia. Quindi, magari, scrivetemelo voi nei commenti. E poi, quest'altro piattino qui, ancora più grande, con quest'altro gatto pelosone, con tutte le rose attorno nel bordo. Sono davvero super, super carini. Devo trovare un modo per esporli tutti uno sotto l'altro, dal più grande al più piccolo, un po' come li ha attaccati al muro la professoressa Umbridge. Sono in plastica, è una plastica abbastanza dura, e li trovo, ragazzi, fenomenali. Sono davvero bellissimi, li cercavo davvero da tanto tempo, e ho avuto questa botta di fortuna su Vinted. Sono riuscito a prenderli, e quindi, eccoli qui. Ma non è ancora finita qui, perché abbiamo quest'altro pacco, molto pesante, che anche lui arriva da Vinted. E all'interno c'è anche un'altra cosa, che ha realizzato la mia amica Diana, che mi ha regalato per il compleanno. E si tratta di una replica della strillettera. Guardate quanto è bella. Dietro è esattamente uguale a quella del film. Davanti abbiamo il sigillo in ceralacca con la W dei Weasley. È a chiusura magnetica, quindi si può staccare questa parte qui, e aprire la strillettera. E guardate all'interno com'è fatta bene, è identica a quella lì che abbiamo visto nel film. Guardate, è davvero uguale. Abbiamo anche i denti, abbiamo la lingua fatta col nastrino in rosso. La trovo davvero bellissima, anche se al contrario. Ok, eccola, ve l'ho fatta vedere al contrario. Non avevo letto all'interno, eccola qui. È davvero super super bella. La mia amica Diana non è soddisfatta. Lei ritiene di poterla fare meglio. Secondo me, già così è perfetta. Magari diteglielo voi nei commenti che così va già più che bene. Io la trovo davvero ottima da mettere in collezione. E magari fatemi sapere se sareste disposti ad acquistarla. Perché lei ha un profilo Vinted. Non ne vende. Non ha ancora messo nulla in vendita. Non ne ha realizzate. Io le ho consigliato di venderle. Perché sono davvero fatte bene. Magari incoraggiatela voi nei commenti. Potrebbe decidere di mettersi a produrle e venderle su Vinted. E io poi magari vi giro il link su Instagram. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ma il vero contenuto della scatola non era la lettera. Ma questi due pacchetti qui che arrivano direttamente dalla Francia. E si tratta di due libri. Ma non libri. In realtà si tratta di due agende. Mina Lima. Ne ho beccate altre due. Vi avevo fatto vedere di recente quella del libro del Principe Mezzosangue. Ebbene ragazzi. Ne ho beccate altre due. A 10 euro l'una. Le vendeva la stessa persona. Quindi l'ho presa insieme. Ho fatto un set. Ho ricevuto anche un pochino di sconto. Quindi super super contento. Me ne mancano solamente altri tre. Perché la collezione è fatta da sei pezzi. E ragazzi. Abbiamo. Ecco qui. Storia della magia. Guardate quanto è bello. Sono davvero bellissimi questi volumi di Mina Lima. Soprattutto da quando hanno deciso di realizzare le copertine foil. Quindi così effetto oro, effetto argento. Le prime versioni erano solamente stampate. Vi avevo raccontato che infatti non le ho comprate. Questa molto molto bella. Storia della magia di Batil Dabat. Ha le pagine bordate in oro. La copertina in oro. La trovo davvero super super bella. Ve l'avevo già mostrata in anteprima su Instagram. Qualora non mi seguiste ancora. Antonio.seria. Mi raccomando. Seguitemi anche lì. Perché sono molto attivo ultimamente. E non solo questo è arrivato. Perché è arrivato anche l'altro volume. Che invece è le fiabe di Beda Il Vardo. Guardate quanto è bella anche questa versione qui. È molto molto simile. Quasi uguale a quella che Ermione riceve in eredità da Silente. La differenza è che la versione dei film è in tela. Mentre questa qui è in cartone. Quindi è un cartonato. Però realizzata anche questa benissimo. Pagine bordate sempre in oro. Copertina oro e verde. E ragazzi c'è poco da dire. Sono dei volumi MinaLima. Sono fatti davvero molto bene. Fanno la loro porca figura. E niente. Mi sento tantissimo di consigliarvi di prenderli. Qualora li trovaste su Vinted. O comunque da altre parti. Non sul sito MinaLima. Perché al momento acquistando anche una agenda dall'Inghilterra. Vi ammazzano di spese doganali. Io ho acquistato una decorazione natalizia. Mi è arrivata con dogana, spese, tasse. In poche parole. 12 euro la decorazione. Circa 20 euro di spese doganali. Una follia. So che anche in molti di voi hanno acquistato in preordine la seconda copia di MinaLima della saga di Harry Potter. Quella della Camera dei Segreti. E so che in molti hanno pagato 35 euro di spese doganali. Quindi una follia. Io l'avevo acquistata su Amazon. Mi è arrivata. Non ho pagato nulla naturalmente. E devo dire mi è andata bene. Perché ero quasi tentato di prendere la versione autografata. Ma a questo punto mi è andata di culo. Quindi ragazzi. Occhio con gli acquisti dal Regno Unito. Ultimo acquisto in questo video che arriva da Vinted. Ragazzi. Quando ve l'ho mostrato su Instagram. Siete impazziti. Mi avete sommerso di messaggi. Io ultimamente ho ricondiviso altre di queste collane. Che adesso vi mostrerò su Instagram. Perché la persona che le vende. Le vende non con continuità. E quindi ogni volta che ne becco una ve la butto lì nelle storie. E' il primo che arriva bene alloggia. E sto parlando della collana maledetta. Questo è il collier maledetto. Che vediamo se non sbaglio nel film del principe mezzosangue. Ed è la collana maledetta. Che viene trovata da una delle studentesse. Che mi pare essere in gita a Dogsmith. Trovano questa collana. La toccano. E la ragazza subisce un maleficio. Dove viene pietrificata. Addormentata. Ragazzi non ricordo. Vagli ricordi di questo film. E quello che ho visto meno in assoluto. Però mi ricordo benissimo. La collana. La professoressa Megranit. Che la esamina. Con il professor Piton. Nella sua aula. E la fanno. La sospendono a mezz'aria. In modo da poterla esaminare. E si accolgono appunto. Che contiene una maledizione. Questa naturalmente è una copia non ufficiale. E' una ragazza che le realizza a mano. E non sono neanche tutti uguali. Ogni tanto c'è qualche differenza tra l'una e l'altra. Ma io sono super super contento. L'ho pagata solamente 12 euro. E lei le continua a vendere a 12 euro più spedizioni. Quindi davvero pochissimo. Io personalmente avrei chiesto molto di più. Sono sincero. Perché esiste solo una versione ufficiale di questa collana. Che è stata venduta nei parchi giapponesi. Della Warner Bros. E costa una follia. Costa tipo 260 euro. Mentre questa qui con 12 euro ve la portate a casa. E la potete mettere in collezione. Io stesso ho optato assolutamente per questa. Perché non volevo salassarmi. E l'altra versione non è neanche facile trovarla. E' davvero molto molto rara. E' stata prodotta solo per un periodo di tempo. E ragazzi io ve la straconsiglio. Realizzata molto molto bene. Molto fedele visivamente. A quella che abbiamo visto nel film. Comunque rende benissimo l'idea. Io non appena l'ho messa su Instagram. Non c'è stato neanche bisogno di spiegarlo. L'avete riconosciuta tutti. E quindi direi che fa egregiamente il suo dovere. Adesso devo cercare un busto. Qualcosa dove metterla in esposizione. Mi piacerebbe molto poterle esporre per bene la mia collezione. Quindi anche questo nuovo pezzo aggiunto grazie a Vinted. Che è pieno di artigiani e artigiane bravissime. Quindi state sempre lì a spulciare. Cercate Harry Potter. Perché qualcosa salta sempre fuori. Ormai è una certezza. Bene. Adesso la smetto di tediarvi con i miei acquisti. Ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate. Fatemi sapere se la mia amica Diana deve cominciare a vendere anche lei su Vinted. Le sue strillettere. Io lo trovo un prodotto bellissimo. Realizzato davvero bene. Totalmente a mano. Lei è stata super brava. E la ringrazio ancora tantissimo. E ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate degli altri miei acquisti. Tutto naturalmente nei commenti. Detto questo seguitemi su Instagram. Antonio.Siera. Lasciate un commento. Lasciate un mi piace. Iscrivetevi al canale. Non foste ancora iscritti. Condividete il canale con i vostri amici. E a questo punto vi auguro ancora una volta buone feste. E noi ci vediamo prestissimo. Con tante altre novità. Ciao. 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 Grazie a tutti.